Ciao amici di Passione Italiana, bentornati a un'altra co-lezione con i gemelli. Come sapete loro stanno imparando a parlare come parla la mamma in italiano e come parla il papà in inglese. Quindi spero che questi video vi possano aiutare a imparare o ripassare i vocaboli. Oggi parliamo della verdura. Mi raccomando, se vi piacciono i nostri video, non vi dimenticate di fare like, iscrivervi al nostro canale o diventare patreons. Ciao amici di Passione Italiana, bravi! Mamma dice cetriolo, papà dice? Cetriolo. Papà dice? Cucca. Mamma dice insalata. Pizzarata. Papà dice? Pizzarata. Mamma dice fagioli. Papà dice? Pizzarata. Oliva. It's a big one. Mamma dice pomodoro. Pomodoro. Papà dice? Pa! I was gonna say pomodoro. Mamma dice? Mamma dice peperone. Papà dice? Peppa. 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 Grazie. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao. Grazie.